le 109 pro di mese audio hanno vinto il premio eisa come migliore cuffia della stagione 2023 2024 tranquilli vi spiegherò cosa sono gli esa award anzi ve lo farò spiegare direttamente da un addetto ai lavori che partecipa alla votazione ma questo premio lo meritano davvero partiamo dalle basi mese audio è un'azienda rumena fondata nel 2011 dal designer antonio mese la svolta è arriva nel 2015 quando le 99 classics vincono premi su premi e contribuiscono a far girare il nome del marchio nel mondo dell'hifi da quel successo mese audio ha spinto sempre di più su progettazione e sperimentazione realizzando prodotti che suonassero e che fossero all'avanguardia dal punto di vista tecnico ciò che accomuna tutte le loro cuffie è un estrema cura del design unita alla qualità dei materiali e non fanno eccezione le 109 pro che portano in dote un altro tratto caratteristico sono le prime cuffie aperte del brand rumeno cos'è una cuffia aperta lo preciso per i pochi che non lo sapessero e lo faccio rapidamente una cuffia aperta è una cuffia che è in contatto col mondo esterno nel senso che quello che noi ascoltiamo arriva anche alle persone che sono accanto a noi e allo stesso modo un po dei rumori o dei suoni dell'esterno entrano nei padiglioni e quindi in qualche modo riusciamo a percepirli per la suonatura per godere al massimo di una cuffia aperta è necessario quindi una stanza in cui siamo da soli che sia un piccolo studio come questo o una sala d'ascolto d'altro canto una cuffia chiusa ci isola dal mondo esterno ed è quindi la scelta migliore in ambienti pubblici come i mezzi per spostarci oppure sul divano mentre la nostra dolce metà sta leggendo un libro o sta guardando un posto al sole e noi vogliamo assolutamente ascoltare il nuovo album del nostro artista preferito dopo una giornata di lavoro senza farci disturbare dalle paturnie della soppopera su una cuffia aperta avremo pertanto una struttura simile a questa a grata dove l'interno è a contatto con l'esterno una cuffia chiusa avrà una struttura simile a questa notate per caso qui una qualsiasi comunicazione con l'esterno no non c'è e infatti le 99 classics sono cuffie chiuse ok è tutto molto bello ma questo come si traduce nella pratica anche qui sarò molto spicciolo gli amanti anzi gli ultras delle frequenze basse opteranno per una cuffia chiusa gli amanti delle frequenze medio alte e di una maggiore spazialità della scena opteranno per cuffie aperte detto questo come si comportano le 109 pro si meritano davvero il premio come migliore cuffia dell'anno sentiamo cosa ne pensa emilio frattaroli fondatore e direttore di av magazine rivista online membro del comitato degli esa world dal 2019 esatto johnny si lei sa è un'associazione di 60 membri tra riviste specializzate su carta e anche siti internet che nasce nell'ottantadue pian piano è anche cambiata prima esa stava per european image and sound association oggi invece la sta per expert perché non è più un'associazione limitata all'europa ma ci sono membri anche da altri paesi da tutto il mondo sono al momento 60 membri da 29 paesi il funzionamento è piuttosto semplice noi ci riuniamo diamo delle nomination a dei prodotti che secondo noi sono quelli meritevoli le nomination vengono controllate perché un prodotto per vincere un award deve essere stato testato da almeno cinque delle riviste che fanno parte dell'eisa dopodiché c'è una discussione democratica per arrivare appunto al premio l'eisa world che viene rivelato il 15 agosto ebbene quest'anno tra i premi c'è la mezze 109 pro che è una cuffia aperta dinamica che ha messo d'accordo veramente tutti non solo per la qualità costruttiva e per l'estetica ma anche per la qualità di riproduzione audio non solo per la timbrica per la dinamica ma anche soprattutto per la scena è una cosa che le contraddistingue d'altra parte non sono io doverti dare indicazioni su quello che scoprirai anzi sono molto curioso di ascoltare cosa pensi di questo prodotto prodotto che mi è stato prestato da davido se io non sono in questo momento da v magazine sono ancora in giro sono a trezzano appena fatto un evento sulla video pressione e in questo punto vendita c'era anche uno shoot out di cuffie tra cui casualmente anche le 109 pro che ho potuto riascoltare anche con parecchi amplificatori e quindi ti confermo tutto quello che ho detto e che ha deciso l'eisa grazie ancora johnny a presto grazie emilio e alla prossima vi dico una cosa che molti immagineranno ossia che per motivi logistici e pratici devo pianificare i contenuti del canale con largo anticipo e quindi posso tranquillamente dirvi che questo video non era assolutamente previsto e che ho contattato mese audio per farmi mandare questo esemplare delle 109 pro dopo aver saputo che avevano vinto il premio eisa perché come molti di voi ero curioso di scoprire cosa avessero di speciale queste cuffie visto che c'ero mi sono fatto rimandare le 99 classics e le lyric che avevo già recensito per ritestarle e confrontarle in modo da capire quale fosse il rapporto qualità prezzo delle 109 pro rispetto a queste altre due 99 classics prezzo di listino 309 euro lyric 2000 euro 109 pro 799 euro ovviamente si tratta di cuffie diverse nella filosofia perché due sono chiuse ed una è aperta e sono diverse anche nel tipo di driver dinamico per 109 pro e 99 classics e isodinamico per le lyric tra l'altro queste 109 pro oltre ad essere le prime cuffie aperte di mese audio sono anche le prime che hanno un driver interamente progettato e costruito dall'azienda quello che accomuna queste tre cuffie è l'impedenza relativamente bassa che in teoria ci consente di poterle sfruttare anche col nostro smartphone tradotto suonano ad un volume adeguato che è vero è ma è anche vero è abbastanza naturale che nella pratica queste cuffie diano il meglio in termini di ricchezza e potenza della scena quando vengono collegate ad amplificatori dedicati per un viaggio oppure quando sono in casa sul divano mi affido all'ip dac di ifi e qui nel mio studio utilizzo un amplificatore per cuffie oppure l'uscita cuffie del mio amplificatore integrato che ha una circuitazione dedicata le 109 pro hanno un packaging importante come da tradizione mese audio esteticamente gradevole e ben rifinito e personalmente adoro tutto ciò che ha una chiusura magnetica sono un appassionato semplice il click mi esalta sempre in dotazione abbiamo un cavo da un metro e mezzo per l'ascolto in mobilità ed uno da tre metri per l'ascolto casalingo comodo sono identici per fattura entrambi terminano con jack da 3,5 mm robusti anti aggrovigliamento fanno il loro dovere dal punto di vista sonico ma avrei aggiunto nella confezione anche un cavo bilanciato visto il prezzo di listino infine abbiamo l'immancabile adattatore da 6,35 mm tutti gli accessori sono inseriti in questa borsetta di ecopelle che a sua volta con la cuffia è inserita nella classica borsetta rigida di mese bella a vedersi e a toccarsi con la cerniera a scomparsa ma tutto fuorché comoda in mobilità questa è una pochette da viaggio da mettere in valigia non certo da portarsi dietro per una piccola trasferta in treno o un breve spostamento sulla metro anche perché è giusto ribadirlo cuffia aperta e ambienti pubblici proprio no a proposito di comfort le 109 pro sono molto comode da indossare e in questo aiutano i padiglioni estremamente ampi soffici ed avvolgenti grazie al velluto esterno e il memory foam interno ma soprattutto grazie all'archetto che autoregolandosi distribuisce in modo equilibrato il peso della cuffia sulla nostra testa e quindi sul collo e sulle spalle come dico sempre dopo una mezz'oretta o al massimo dopo un album va fatta una pausa per evitare che le nostre orecchie raggiungano la stessa temperatura di un vulcano in eruzione ma questo succede con tutte le cuffie ovvero per quanto siano comode l'impatto estetico è davvero notevole grazie ad una lavorazione pregiata che mette in evidenza quanto i dettagli siano ottimamente rifiniti e se già le 99 classics facevano la loro porca figura queste sono davvero da bavina alla bocca quando si toccano i padiglioni esterni in legno di noce e si osservano quelli interni hashtag hi fi porn la sensazione è di avere tra le mani un oggetto davvero premium e se vi sembra così banale e considerato il costo ricordiamoci che una sennheiser hd 650 sembra tutto tranne che primi un visto che la prevalenza è plastica eppure siamo su un listino di 499 euro giustamente potreste obiettare che vi interessa la sostanza ossia come suona una cuffia una cuffia deve suonare bene e sono con voi al cento per cento ma per questo prezzo io voglio anche qualcosa che sia bello da guardare e da toccare se no col cavolo che tiro fuori otto pezzi da cento e allora veniamo al dunque dicendovi come suonano secondo me queste 109 però non voglio annoiarvi con dettagli tecnici che potete tranquillamente recuperare da soli sul sito del produttore e soprattutto dettagli che ci raccontano la teoria mentre a me interessa di più raccontarvi la pratica come suonano quindi di base molto bene soprattutto tenendo conto del fatto che si tratta della prima cuffia aperta realizzata da meseado e quindi al primo colpo hanno fatto bingo le 109 pro ci offrono una scena equilibrata che predilige essere nutrita con musica jazz e classica ma che riesce a digerire bene anche pop e rock certo se preferite una scena leggermente meno definita ma più grintosa probabilmente non metterete queste 109 pro in cima alla vostra lista dei desideri ma devo essere obiettivo e dirvi che a questa cuffia non manca nulla per lasciarvi a bocca aperta soprattutto tenendo conto dei vari competitor nella fascia di prezzo 500 mille euro in cui sta questa 109 però per elaborare il mio giudizio ho ascoltato album che conosco a memoria che utilizzo sempre come riferimento c'è anche una new entry nei brani rivelatori ed è naima di john coltrain eseguita alla chitarra da maurizio bruno ho ascoltato questo disco e questa canzone così tante volte nell'ultimo anno da averla in testa anche alcune mattine al mio risveglio come si comporta la 109 pro con questo brano è musicale precisa ma mai troppo algebrica e con questo voglio dire che l'incisione si percepisce come umana la 109 pro è dettagliata ma allo stesso tempo morbida le medie e le alte frequenze predominano sulle basse ma non sono mai troppo taglienti e quindi affaticanti lo stesso tipo di dettaglio lo riscontro sulla tromba di miles davis bella viva e squillante in so what come il sax di john coltrain in a love supreme che punge ed accarezza nel rap e in certo pop odierno fila tutto liscio a patto di non essere un bass head ossia uno che vuole sentire il basso fino alle viscere per capire come una cuffia si comporta con il rock il primo brano che ascolto è sempre my name is mad dei primus il basso di les claypool è talmente protagonista che ti accorgi subito quando non ruba la scena con le 109 pro la protagonista è la dinamica del brano più che il basso e la stessa cosa avviene con prima dei tool tratto dal loro ultimo album fear in oculum la batteria tentacolare di danny carey è sempre riconoscibile ma non sovrasta agli altri strumenti dobbiamo però ricordarci che si tratta di una cuffia aperta e quindi è normale anzi inevitabilmente legato alla sua conformazione fisica che un po di vigore si perda nell'aria a in fin dei conti neanche troppo e poi va detto che solitamente questi test vengono effettuati senza equalizzazione in post per capire quale sia l'effettiva natura di una cuffia ma se a queste 109 pro aggiungiamo un po di basso tramite l'amplificatore portatile o l'integrato allora si vola altissimo perché il dettaglio e la musicalità delle medie e delle alte rimangono inalterati ma arrivano anche basse più avvolgenti e grintose senza perdere di definizione cos'è che mi convince meno di queste 109 pro se vi ricordate quando ho descritto la dotazione ho accennato alla mancanza di un cavo bilanciato poi ho rifatto un giro sul sito di mese audio e ho capito come mai non sia compreso perché li vendono a parte sul loro store il più economico con terminale xlr per le 109 pro costa 349 euro mi sembra un po caruccio è tanto caro quanto bello però non l'ho provato per cui non posso esprimere un reale giudizio posso dire però che ho testato le 109 pro con un cavo bilanciato comprato su amazon a meno di 50 euro e già con questo si nota la differenza rispetto al cavo sbilanciato in dotazione con il cavo bilanciato la scena diventa più aperta e musicale e si percepisce anche un lievissimo miglioramento sulle basse frequenze che diventano più rotonde per questo a maggior ragione ribadisco il fatto che avrei inserito anche un cavo bilanciato nella confezione delle 109 pro magari non premium come quello da 349 euro ma per una cuffia di questo livello e di questo prezzo è quel plus che è bello trovare già in dotazione e soprattutto è utile ai fini di marketing se sei un brand in ascesa che ha bisogno di conquistare ulteriori fette di mercato in definitiva le 109 pro sono cuffie belle da guardare comode da indossare super piacevoli da ascoltare nella fascia di prezzo che va dai 500 ai 1000 euro sono tra le più definite e musicali che io abbia mai ascoltato probabilmente le più definite e musicali ma in questo caso per dovere di cronaca mi sto rifacendo alla mia memoria nel senso che mi riferisco a modelli che ho potuto provare solo con esemplari da esposizione non per realizzare un video sul canale e quindi si è trattato di sessioni molto brevi ci passano 300 euro tra le hd 650 di sennheiser e le 109 pro di mese audio in hi fi 300 euro non sono un differenziale così clamoroso eppure le 109 pro asfaltano le 6 e 50 in termini di musicalità brillantezza dettaglio e potenza della scena sonora forse mese audio non è un brand così di moda tra gli appassionati di cuffie italiani come lo è sennheiser e questo è un vero peccato soprattutto per queste cuffie che nel rapporto qualità prezzo vincono a mani basse non solo sulle 99 classics ma anche sulle lyric e per le lyric stiamo parlando di cuffie con un prezzo di listino di 2000 euro e insomma per tutti questi motivi non mi meraviglio affatto del premio eisa a queste 109 pro e anziché dire a chi sono idealmente rivolte si fa prima a dire a chi non sono rivolte le 109 pro non sono pensate per gli appassionati che privilegiano una scena con una predominanza di basse frequenze quelle che ti arrivano fino in pancia però come già detto basta agire leggermente sull'equalizzazione e viene fuori molto più carattere per tutti gli altri le 109 pro sapranno dare grandi soddisfazioni soprattutto con il jazz o comunque in brani con una connotazione acustica o semiacustica anche l'album di Irene Busselli uno dei miei ultimi colpi di fulmine ne esce impreziosito perché riesce a dettagliare e musicare in modo eccelso la sua voce e la sua chitarra dovete assolutamente prenotare una sessione dal vostro negoziante ai file di fiducia per guardare toccare e soprattutto ascoltare cosa siano in grado di fare le 109 pro di mese audio e credo proprio che mi ringrazierete a presto e buoni ascolti e si fa finta di ascoltare perché non ci sono i capi a presto